che dici tutto a posto? 29 noi andavo a cena con tutti i club a metà, ma andava lo cammina ok perché dobbiamo organizzare un mega raduno per aprire, ma pure altre macchine? ok, abbarte o non abbarte, a parte che ci sia pure interessa l'oretto laurea per una pallenuta ah perfetto, quindi stiamo insieme, tagli, ok, che so, buon pranzo, grazie, ciao è cielo duro